La relazione si avvia con la citazione di circa 40 documenti ufficiali di riferimento tra Convenzioni delle Nazioni Unite, comunicazioni del Parlamento Europeo della Commissione, risoluzioni libri verdi, vari atti, il che ci fa capire la quantità di lavoro legislativo, normativo e di indirizzo e di raccomandazione che è stata svolta in tutti questi anni nel campo della disabilità. E inoltre questa relazione pone una lunga serie di obiettivi per favorire l'integrazione dei nostri concittadini disabili. Tra questi obiettivi ricordo due in particolare, il primo, la partecipazione della disabilità al processo decisionale in virtù del motto niente su di noi, senza di noi e poi il fatto di considerare l'argomento di cui parliamo questione attinente ai diritti umani e ai diritti civili, vale a dire una questione non che riguarda una categoria di cittadini, ma che tocca l'identità stessa dell'Unione Europea. Tuttavia, Presidente, la realtà del contesto europeo è molto diversa perché stiamo assistendo a una sofferenza, a un dolore della disabilità nei nostri Paesi che purtroppo è crescente. Assistiamo a fondi strutturali che sarebbero disponibili ma che vergognosamente non sono utilizzati da Paesi membri o da enti locali. Assistiamo a violazioni da parte degli stessi Paesi membri o enti locali che non vengono sanzionate come si dovrebbe da parte della Commissione. Assistiamo a buone pratiche in alcuni Paesi che vengono purtroppo ignorate e non esportate e valorizzate altrove. E assistiamo a trattamenti che sono diversi da Paese a Paese o da Regione a Regione all'interno dello stesso Paese, ciò che purtroppo limita considerevolmente la libertà stessa di circolazione dei nostri concittadini disabili. Thank you very much, colleague.